Benvenuti su Biderdo 32, qui Michele Ianiello e Giorgio Gaggini. Benissimo, nella seduto di Erna assisteremo a una grande partita. Ianiello vuole limare il suo svantaggio, quest'altro c'è la faccia da pirla. Andiamo a spaccare. Limare il vantaggio che ripetiamo è un 31-23 e il seduto di Erna è sull'1-1. Ianiello spacca. Solo come lui sa fare. E Ianiello inizia di legate, va bene così, assisterete, c'è un colpo mitico perché quella lì entra a buca, te vai lì. Sì, quella entra a buca col saltello, come al suo solito, il Gaggini si appresta a prendere la palla e uscirà dal campo, come di fatti, io ho le palle. Piene. Ah, piene per me. No, no, era buona questa, era buona. Occhio alla magia di Gaggini. Due! Due! Eh, sì, torno. Signori, due piene, una qui e una qui, zitti tutti. Dai! Zitti tutti, assistete al mago del colpo a caso. Beh, sì, esatto. Perlomeno lo ammette, vabbè, giustamente. Qui c'ho il modello mitico. Sì, 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 sì. Ora no. Ma secondo voi l'ha fatta apposta, io dico di no, cioè. C'è il replay, c'è la moto. Porca che paura, tra un po' mi accetti. Entra niente, purtroppo. Dammi la longa che ti faccio vedere io. Dammi la longa. Gaggini, cosa farà? Tocca la palla arancione, per l'altro. Dai, non mi riesce. Come godo, come godo. Oh, che botta, ancora una volta. Che culo. Due. Due, che culo. Mucio di culo. Chi è il campione? Aspetta, che è il campione? Aspetta, vengo messi stessi. 21 a 23, scriso lo yoga. No, 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 no. Tiè, tiè. E nella serie positiva. Oli Michele. Dammi il mio modello. Cazzo, sei lì, quella faccia lì, quei capelli lì. I capelli mi sono tagliati, eh. Ah, ce neanche te, giusto. Porco duro. Sì, sì. Però anche io, sì, dal boy viene, c'è anche l'intervista. Sì, sì. Stavolta che sono passati lì, c'era Berto. Sì. Ma che giorno è oggi, scusa. Mi sono non alzato. Mi sono non alzato. Ma ora non penso ci vorrebbe anche più alzato. Sì, infatti. Mi morte da noi, volevo dire. Ma qualche giorno mi sei sopra i 60, quasi i 70, più i 70. Ma chi è vero? Sopra i 60, sanzo. Più i 70, che i 60? Sì. Sbaglia. Nooo. Sono più forte. Cioè, lo vedete? Poi questo qui, migufa, mi distrae. Ma porco, Michele, porco, 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 Michele, porco, Michele, porco, Michele, porco, Michele, no, 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 sì, però sì, il tavolo in pendenza di Gargimi, sì, Il tavolo in pendenza del gay, il tavolo in pendenza del gay. Che bucio di curo. E allora, Ianiello, nel colpo all'occhio chiuso, ma chi chiude? Vi ha chiusi? Oddio. Sì, che è il colpo speciale di Ianiello? Il colpo all'occhio chiusi. È nulla, eh. No, non l'ho detto, ma cazzo è il putter. L'ha detto, l'ha detto. Alzate il volume a queste, ma, cazzo. Sì, sì, vengono. Come in quel momento. Ianiello, all'occasione per chiuderla. Ianiello, all'occasione. All'occasione per chiuderla. Ah, mi manca solo una palla. Porca che gay, Ianiello. No, 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 no. Sì, nera, vai in buca, vai in buca, nera. Marca maiala. Mi sono spicciottolato addosso. Sì, spicciottolato, Ianiello, addirittura. Perché io mi l'ho porto via io. C'è delizia, cosa ti porti a fare. Ma, Riccardo? Sì, dammi la pazza, la riccardo. Sì, era una scureggia che sa qui. Sì. Ma che schifo, ma che schifo. Un momento di rame non me lo scordo, lo voglio vedere. Non ci credo, ma non ci credo. Che è la siccara? Ho sbagliata. Non si scaccio. Solo Michele. Solo il pezzetto. Dammi il mio modello. Tieni il tuo modello. E no, no, Ianiello sto sbagliando. È già la seconda volta. E mi confongo, sai. È già la seconda volta. Sì, sì, sì. Ma è già la seconda volta, Michele. Difensivo, Ianiello. Difensivo, tocca prima la mia e falla. Perché non si fa da dieci anni? Ah, vabbè, vabbè. Non si fa da dieci anni. Finché perde, finché perde non ci sono i falli. Qua li trova, li trova tutte le regole, eh. Vergini. Riccati. Ianiello, l'accosto. Dammi, dammi il tuo modello. Sbocciatevi. Cioè, ha ritirato a casa. Sì. Sì, Ianiello. Ora è già da più nell'angolo, quindi l'altra volta. E... Angolo. Questo cos'è? Ah, una candela. Fantastico. Ah, si fa a vedere alla gente se capisce. Questa che vi sembra? Vi sembra una candela, un mas... Sembra un ce... Cioè, hai cerini sopra, cosa deve essere? Sembra un ceppo di legno o una candela? Un ceppo... Un ceppo di... Un ceppo di legno o una candela? Eh, sì, tocca, tocca, eh. Cene, ecco, cene. Sì, cene, cene, cene. Oh, no, no, cene. Sì, te ti sei fumato troppo. Eh, sì, cene. Daniel, attenti da guarda, spurna, anche se... Eh, yes, of course, of course, yeah! Buscio di culo, non ci credo. Solo i cavalliii! Ah, è un po' bello. Ah, parla mia. Allora, se le metto tutte e due... Se le metti due... Ah, mi sono graffiato la tavola del cazzo. Sì, sì, uff... Sì, uff... Sì! Ehi, Agnero deve fare un salto di quelli eletrici! Salta da 140 mesi! Se mette questa, diventa il mago di... Il mago di turno. Tanto mi appresto a prendere la pallina. Oh, se la metto, Giorgino si sdraia sul tavolo. Anche se lo rompe, vuoi. Mi sdraierò sul tavolo. Aspetta, qui ci... Se non la mette, non ci sdraierò perché lo rompe. Eh, andiamo. Quindi vai. Ah! No! Troppo lontano, però difensi... No, no, che cazzo fa? No, 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 no. Sì, che pollice era! Un bel pollice, un bel pollice, un bel pollice. Sì, un bel pollice da Ghi. Porco! Nera in buca ad angolo! Eh, Agnero fa tante segate! Si trova in piccione negli anni! Aiuto! Aiuto! Andiamo! Sì! E siamo a 32! E siamo a 32! E stai zitto! Fece il coglione con il santello, face... E comanzò nella partita sul tubo! La vince sempre lui! Dai! La vince sempre lui! E non si sdraia sul tavolo, eh? Complimenti! Saluto i nostri telespettatori, Agnero! Ma perché? Vai vederci! Ma perché mi ne vanno a parte lungo qui? Ma perché devo essere battuto da questa faccia di culo? Guardate, questa faccia di culo! Guardate che faccia di culo c'ha! C'è una mosca qui! Guardate!